Ciao ragazzi, Tina sta ancora dormendo e ho pensato quindi che so già che Tina deve finire la sua vendetta di fargli uno scherzo in anticipo, cioè lei è stanco da dormendo come vi ho detto e in mente gli prende uno stuzzicadente e poi glielo fa esplodere sulla sua testa e vediamo un po' come è da girare ovviamente, so già che farò gli scherzi perché vi ho detto che la sua vendetta non è ancora finita quindi vado a prendere adesso uno stuzzicadente e poi vediamo la sua dazione la mia vendetta! la mia vendetta! la mia vendetta! la mia vendetta! e vabbè dai mi fanno andare da quel nodo ragazzi perchè non vi ho detto che lei ha pude il sonno pesante guarda Pippo ti odio ti fanno prendere un colpo è mezzogiorno e venti ragazzi ho fatto sbagliare perchè è mezzogiorno e venti c'è ragazzi ma sta anche piovendo fa freddo oggi dai però questa non me la dovevi fare guardate la bella coperta dai la sua copertina come tutta bagnata dai ma tutti i giorni hai fatto bello e caldo ma lo deve fare oggi che fa freddo eh si Tina ma scusa ma io sono dai però sei stato crudele però così no io sapevo che ti anticipavo perchè tu mi hai detto che la vendetta non era ancora finita ho detto non mi ha fatto niente no ma qua avrebbe superato te stessa dai questa no dai e aspettati non devo ancora fare la vendetta dell'ottiene all'ovul ah non mi interessa la prossima è mia non mi interessa cioè ragazzi siete testimoni che la prossima volta devo farlo io eh cioè dai hai bagnato tutto il letto guarda no ragazzi pure io devo fare la doccia adesso eh Tina mi hai detto che ti dovevi non venire i capelli ce li ho lavati scusa un pensiero in meno guarda mamma mia cioè dove ne sarei mai aspettato questa cosa cioè alto che rapirmi i premi di di fifa alto che rapirmi i premi di fifa ti ho detto che non veniva prima cioè in più hai fatto tutto il video cioè registri pure quando mi fa queste cose sì cioè io non lo so ragazzi veramente cioè non lo so però aspetta vado a prendere una cosa voglio proprio vedere poi quando c'era il video che cosa hai detto prima perché penso che hai fatto un incipit sì 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 no 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 è bagnato sogni doni mangia questa buccia da danza dai è usato ma questo è un mangio malù un senso sì sì a parte che hai ancora un mazzo così nascosto quindi io te sì ma adesso asciughi tu il letto però no tu no eh no dai no no tu asciughi asciughi tu il letto tu asciughi tina tina dici sia pippo per 24 ore asciugami ma sempre dove sarà no quello che deve sopire sei cattivo dai dormi dai tina no non dormo adesso mi devo andare a lavare per colpa tua cioè a mezzogiorno e mezza volevo mangiare io e vabbè tanto è ancora pronto cucinato io con mia mamma la pepe donada la pepe donada ed è pronta per luna no ma ragazzi ma non l'avete consigliato voi perchè se guarda ah no no ieri ho fatto un sondaglio ho messo ehm fortnite eh calcio e scherzi eh se non sbaglio e hanno votato l'83% scherzi solo che l'avevo fatto io e l'ho pure scritto però hanno detto che tu me lo devi fare a me no perchè l'ho scritto io è normale se l'ho scritto io te lo devo fare a te ma che ne sanno se l'hai scritto tu perchè io lo so e tu hai voluto prendere questa cosa furbo lui non mi ha detto ha vinto gli scherzi quindi io potevo fargliela a lui no? no ho fatto tutto lui e vabbè Tina questa foto adesso ci dovete mettere la x no perchè? ma fate una cosa andate su instagram scrivete la x guarda boh io vado ragazzi non ce la faccio più a stare così bagnata dai vado io ho già mangiato adesso vado a giocarla lascia perdere veramente questa volta mi hai fatto arrabbiare proprio sono arrabbiata con te dai lo faccio anche io non capire mi è arrivato tutto l'acqua un secchio di acqua addosso praticamente non mi son manco macchiato la maglia mi son sentita strozzare proprio così vieni qua allora su instagram adesso ma mandateci le quando le ho spuzzato il bunch of buns fate la cosa in grigio no 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 a parte che lo mettiamo poi nel video eh penso di si ciao emoji bagnati anche tu dai basta vieni qua va saluta saluta tu perchè sono arrabbiata con te no non posso saluta anche tu allora ragazzi ciao ci vediamo al prossimo scherzo dopo oh mi raccomando tanti pollici in su eh perchè c'è dopo sto scherzo allora si spollegiate vieni più forte allora facciamo una cosa i dislikes sono per lo scherzo di Tina e per i like per il mio scherzo ma dai non è vero con Dio no mettete tanti pollici in su mi raccomando così io poi farò io oddio il mio scherzo a questo essere però quindi che tu poi lo farei il sondaggio andate a vedere cosa hai fatto cosa è uscita cosa è morto ho portato qualsiasi dislikes eh mettete pollici in su pollici in su mi raccomando commentate e tra poco più o meno tra quando torneremo quindi ad agosto li farò anche la vendetta del dell'utiennolo buono eh ma fino ad agosto Pippa aspettatevi di tutti i colori dopo questa cosa che hai fatto ragazzi state sintonizzati perché non mi fermerò così tanto hai una sola settimana perché poi partiamo nella ma perché vacanze non si possono fare io ne posso fare no e basta no ragazzi mi sono venuti in mente da fallita cazzo adesso andiamo a capire mi sono tutta venuta ad andare ad asciugare dai ok quindi niente mettete tutti i pollici in su ciao alla prossima ragazzi mi raccomando vado non lo so proprio sto scherzo dovevi farmi si tanti pollici in su asciugare oh no Grazie a tutti.